e cosa vi devo dire cosa vi devo dire anche oggi oggi sono furioso ma non per il risultato perché siamo seri il risultato fa anche bene che rendiamoci conto che perdere un derby 1 a 0 va anche bene arrivati a questo punto perché oggi si è veramente offesa la storia del milan e il motivo è molto semplice il motivo è che io non mi sono mai vergognato del milan in vita mia in 35 anni di vita come mi sono vergognato nel primo tempo del derby di oggi dove più che una partita di milan sembrava di assistere ad una partita con tutto il rispetto del foggia della lucchese di qualsiasi altra squadra veste colori rossoneri e che militi in categorie inferiori veramente mettere quella formazione in un derby io capisco il momento capisco tutto ma giocare alla viva il parroco allo spazzare il pallone in tribuna e non saper far due passaggi di fila è una cosa vergognosa oggi si è offesa la storia del milan la tradizione di una squadra che gioca sempre la palla che gioca sempre l'attacco mai catenacciara io veramente non ho mai visto il milan giocare così male come nel primo tempo di questo derby oltretutto si poteva fare di più perché l'inter nonostante abbia vinto con pieno merito anche oggi ma non è che sia stata una grande inter e il secondo tempo con due accorgimenti tattici si è capito che si poteva anche pareggiare però a noi ci piace farci del male da soli qualcuno ci spiega perché le ha fuori qualcuno ce lo può spiegare veramente cioè fatemi capire riavolgiamo il nastro un prestigioso giornale dice che tra il milan e le hao c'è una rottura ok il milan smentisce fa l'offeso e poi nel derby subito dopo le non sta in panchina cioè ma allora qual è la verità ce la spiegate perché ci piacerebbe capirlo veramente non essere presi sempre per i fondelli da tutti poi andiamo su pioli che veramente mette un 3 5 ma ti sembra pioli la partita per fare sperimenti il derby dopo che veramente hai perso tutto quello che potevi perdere una settimana adesso veramente c'è la champions anche a rischio ma è normale cioè ma pioli veramente pensava che potessimo resistere 90 minuti venendo presi appalati dall'inter che invece è una squadra che fa dell'intensità e ha degli attaccanti che fanno gol a differenza dei nostri il proprio marchio di fabbrica ma veramente bene andata che ne abbiamo preso solo uno e oggi non c'entra niente da Tarusano voglio sottolinearlo tre volte che fa anzi un paio di buone parate la difesa è il solito disastro anzi andiamo a vedere le pagelle io non so Kier cosa gli è successo ma non so cosa combina sul gol di Lautaro ma anche oggi un disastro Kier Calabria viene asfaltato da Di Marco finché resta in campo ed è un disastro rotale Gabby e Calulu fragilini tutte e due Teo Hernandez leggerino nei rinvii disimpegni mai una discesa veramente giocatore riconoscibile anche Tonali fa fatica Messias Mezzala chi l'avrebbe mai detto eh chi l'avrebbe mai detto che avrebbe fatto fatica chissà vabbè Krunic insomma così Orighi non becca palla Giroud ha la palla per riaprirla ma io non so sbaglia lo stop eh vabbè però pure lui poi tira una punizione che pure le punizioni tira Giroud un po' meglio quando entra Brahim sei per dire ma vabbè le ha o così così ma intanto è più pericoloso anche oggi sta le makers è meno disastroso di Calabria e questo va detto ciao se non altro imbriglio Lukaku che come al solito contro di noi eh vede rosso e quindi giustamente ah poi mi spiegate perché Rebic ogni volta debba entrare e giocare con gli avversari cioè entra prende un giallo regala due o tre palloni all'Inter boh vabbè io non so un giocatore completamente inutile e vabbè io dico che qui le cose qui si sta affondando a picco a picco perché oggi il risultato è bugiardo non che l'Inter abbia fatto tantissimo ma sicuramente avrebbe meritato una vittoria più larga il Milan fa il primo tiro in porta al 74esimo con Brian Diaz che solletica i guanti a Onana Onana peraltro potrebbe essere due o tre cappelle che se l'avessimo pressato un po' di più magari un gol ci scappava io dico veramente che qui bisogna prendere provvedimenti subito non so se sono allenatore sia la scelta giusta anche perché non vedo grosse alternative in questo momento ma di sicuro non si può continuare così oggi ennesima umiliazione ennesima partita in cui c'è da vergognarsi della squadra e non si capisce cosa sia veramente successo nel giro di questo mese spogliatoio tutto bene però non fanno due passaggi di filo Leao non c'è nessuna rottura però non gioca il derby il giocatore più forte che hai cioè io qualche spiegazione me l'aspetto veramente spero che vengano presi provvedimenti in maniera sensata con calma con la lucidità che spero appartenga ai nostri dirigenti però in questo momento non è possibile continuare così io veramente è vero che ho parlato di Esonoro Di Pioli solo nel caso in cui fosse arrivato un risultato roboante in favore dell'Inter ma quello che si è visto nel primo tempo oggi sinceramente è un qualcosa che mi ha fatto davvero pensare tanto e io sono davvero molto deluso per l'atteggiamento oggi del Milan io penso che il risultato sia davvero guadagnato nel senso che perdere solo il derby 1-0 oggi è veramente il minore dei mali con quello che poteva succedere quindi spero che vengano presi provvedimenti al più presto e che si inverta la china io ho provato a tirar fuori anche l'amuleto la maglia di Gans avevo preso un derby anni fa che finì 5-0 se vi ricordate ma non è bastato neanche quello ci vediamo domani a Calcissimo per commentare questa sconfitta del Milan l'ennesima di questo 2023 che tutto è fuorché un buon anno per i colori rossi e neri a domani